Per spegnere X3 alla fine del servizio, chiudere la valvola di uscita fumi e assicurarsi che la valvola di ingresso aria sia chiusa in modo da consentire un graduale e sicuro spegnimento delle braci. Si procede poi alla rimozione delle ceneri estraendo il cassetto cenere che si trova sotto il cassetto brace. Si consiglia di compiere questa operazione a forno freddo. Nel caso il forno fosse ancora caldo, è obbligatorio l'utilizzo delle maniglie antiscottatura. Grazie per la visione!